È un tema complicato per cui anche il giornalistico che se ne occupa non ha una formazione specifica e poi perché magari è considerato un tema di chi è invece no, è un tema centrale come bene ha detto il procuratore rispetto al quale si vince o si perde una partita fondamentale con la criminalità organizzata. Noi in Campania, Sindaco, molto francamente siamo abbastanza orgogliosi di essere un'avanguardia rispetto all'altra regione. Lei che conosce i temi lo può verificare. Naturalmente non in maniera omogenea ma naturalmente a macchia di leopardo. La Campania, io non c'entro niente, naturalmente l'impegno e la passione dei sindaci, dei magistrati, delle forze dell'ordine, siamo un po' un riferimento sul riuso e la valorizzazione dei beni. Il tema, voglio dire, Caserta, il contrasto ai Casalesi. Adesso, sabato e domenica, dovrò spiegare a mia moglie che non posso tornare a Roma perché hanno la Summer School a Carditello su questi temi. Insomma, è un'ulteriore occasione di riflessione e soprattutto di spinta ad un'azione che effettivamente costituisce un momento di riscatto della nostra comunità.